Molinato particolare per la sua struttura irregolare che si illumina con la luce di piccolissime paillette a 2 mm, creando un contrasto raffinato e accattivante. Realizzato utilizzando cotoni GRS, ecosostenibili e viscose FSC, questo articolo di titolo 2,9 lavorabile alla finezza 5 suggerisce immediatamente un'informalità ricca e inaspettata, uno chic non impegnativo da indossare con grande libertà. Tutte quelle lavorazioni aperte e con spazi rovesci rendono al meglio le sue caratteristiche, quindi effetti links scaricati e ranghi liberati, renderanno questa maglia del peso giusto per illuminare le sere di una lunga estate. L'interpretazione sul capospalle è suggerimento obbligato, l'articolo viene prodotto con un minimo di kg 10, si possono valutare colori personalizzati su richiesta.